Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon lunedì mattina a tutti. Siamo reduci da un weekend tutto sommato positivo perché infatti nelle ultime ore Bitcoin, come anche il resto dell'Helcoin, diciamo che a partire proprio dall'inizio del weekend abbiamo recuperato un po' di terreno. Inoltre ragazzi stiamo per entrare nella seconda settimana più importante di gennaio perché la prima settimana ovviamente è stata quella dell'approvazione degli ETF spot. Ma questa settimana attenzione ragazzi perché ci sarà l'FOMC, ovviamente con la decisione sui tassi di interesse per questa sessione, per la sessione di gennaio da parte della Federal Reserve, che ci faranno un po' capire le misure di politica monetaria che attueranno rispetto al dollaro americano. In questo video infatti, oltre ad aggiornarvi con l'ultime news relativa al mercato cripto, voglio andare anche ad affrontare varie questioni molto importanti che si potrebbero ripercuotere nel breve termine su Bitcoin e di conseguenza sul resto delle cripto. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio, ti chiedo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivetevi al canale stesso, è fatto? Perfetto, non perdiamo altro tempo e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, partiamo immediatamente con i dati di carattere fondamentale che usciranno questa settimana. A partire da domani ci saranno l'ICB Consumer Confidence e il Job Openings. Ovviamente stiamo parlando di dati, quanto riguarda il Job Openings di dicembre e Consumer Confidence invece di gennaio. Ma ragazzi, attenzione perché la giornata più calda sarà il 31 gennaio, ovvero mercoledì, dove oltre ai Chicago PMI ci sarà soprattutto alle 20 italiane e poi alle 20 e 30 l'FOMC Statement con il Fed Interest Rate Decision. E di conseguenza dopo mezz'ora parlerà il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ci farà un po' capire le politiche monetarie che andrà ad effettuare la Federal Reserve nel prossimo futuro e di conseguenza ci farà capire un po' l'andamento del dollaro americano e come potrebbe ovviamente impattare quest'ultimo su tutti i mercati RISCON, compresi anche il mercato crypto. Poi ragazzi, il primo febbraio ci saranno i CPI Numbers in Eurozona con vari dati appunto di carattere fondamentale sia per quanto riguarda il settore manufatturiero che per quanto riguarda il mercato del lavoro in zona statunitense. Inoltre attenzione perché venerdì, il 2 febbraio, ci saranno le buste paga del settore non agricolo, i non farm payrolls e l'unemployment rate. Però ragazzi, ovviamente la giornata più calda sarà il 31 gennaio, ovvero questo mercoledì. A proposito di ciò, andiamo a vedere un po' cosa si aspettano gli analisti in relazione proprio a quest'ultima sessione dell'FOMC. Abbiamo un dato corrente di 5,25 e 5,50 come potete vedere. Attualmente nel momento in cui sto registrando, per il 96,9% si aspettano una stazionalità dei tassi, ovvero che la Federal Reserve attraverso anche la decisione ultima e le parole di Jerome Powell si aspettano una stazionalità, cioè vuol dire dei tassi stabili tra 5,25 e 5,50. Soltanto un 3,1% invece si aspetta un calo, un taglio dei tassi di 25 punti base, ovvero di uno 0,25%. Staremo a vedere, ovviamente, se uscisse un'ulteriore stazionalità, che è anche la cosa più probabile che mi aspetto anche io, sono sincero, ovviamente il mercato potrebbe non scontarlo perché è già stato scontato dal mercato una cosa del genere. Se invece dovesse avvenire un taglio dei tassi, che non si aspetta praticamente nessuno, ovvero soltanto un 3,1% si aspetta a questo scenario, ragazzi, potrebbe essere molto positivo per i mercati a risk on, perché questo vorrebbe dire che ci avviciniamo sempre di più ad un calare di tensione sui mercati azionari o comunque sia tutti quei mercati che sono considerati come risk on. Passiamo con le notizie che riguardano, in questo caso, Bitcoin. Gli ETF di Bitcoin, perché infatti Charles Schwab, che per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di una corporation, una multinazionale americana, che gestisce 7,13 trillion dollar, questo in realtà è un dato di agosto 2022, un dato più aggiornato dovrebbe essere, eccolo qui, 8,5 trillion dollar di capitale amministrato, secondo soltanto a BlackRock, pare che, o meglio, tanti analisti si aspettano che quest'ultima entità, quest'ultimo colosso, sempre di Wall Street, stia per lanciare in una seconda tranche un ETF a replica spot proprio su Bitcoin. Questo perché, dicono vari analisti, Charles Schwab abbia aspettato a lanciare questa tipologia di strumento finanziario in modo da vedere i suoi concorrenti che effetto facevano proprio a livello di volume sugli strumenti, eccetera, eccetera. Per adesso stiamo parlando soltanto di rumors, però staremo a vedere, perché qualora uscisse una dichiarazione ufficiale, un report ufficiale, potrebbe essere molto positivo per il mercato, perché potrebbe ovviamente aumentare la notorietà di Bitcoin in zona investitori americana. Prendiamo sempre la situazione Bitcoin ETF, però confrontandola con una questione che riguarda direttamente Google. Sapete benissimo quanto Google sia molto ristretto dal punto di vista dell'advertising degli strumenti finanziari che in qualche modo hanno a che fare con il mercato delle criptovalute. In questo caso, a partire da oggi, ragazzi, come comunicato dello scorso dicembre, Google ha cambiato certe policy riguardando ovviamente l'advertising di vari strumenti finanziari e soprattutto permetterà ai Bitcoin Exchange Trade Funds, ovvero a tutti i gestori di ETF, di fare pubblicità attiva attraverso Google Ads. E questo sapete benissimo che visibilità potrebbe dare a queste tipologie di strumenti e soprattutto potrebbe essere una grossa mano dal punto di vista per far diventare Bitcoin il più possibile mainstream. Ovviamente questa è una cosa diretta soprattutto agli Stati Uniti, ma sapete benissimo che ancora gli Stati Uniti sono l'economia più importante al mondo e di conseguenza, come abbiamo detto più e più volte all'interno dei video, potrebbe impattare in modo molto positivo sull'asset di Bitcoin stesso. Perfetto ragazzi, partiamo con il vedere come si sta comportando il mercato questo lunedì. Ragazzi, come potete vedere abbiamo un mercato abbastanza di correzioni, infatti abbiamo per esempio Manta che perde un 4,3%, Yota un meno 6,7%, in linea generale comunque le bolle in top 100 sono quasi tutte rosse a parte qualche eletto, come per esempio Hex, CFX, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere però i big, infatti in ultime 24 ore il Bitcoin rimane più o meno stabile perdendo uno scarso 0,7%, assestando però il proprio prezzo a 42.158 dollari, tornando in positivo negli ultimi sette giorni. Ricordatevi appunto il positivo negli ultimi sette giorni perché volevo contestualizzare una cosa molto interessante per quanto riguarda il weekly proprio di Bitcoin. Stessa cosa, Ethereum perde un 0,99%, però a differenza di Bitcoin rimane abbastanza in negativo, riassorbendo tutte le performance che aveva fatto nelle scorse settimane, infatti perde un 6,66%, assestando proprio prezzo a 2.264 dollari. Andiamo a vedere appunto sul weekly di Bitcoin che possiamo vedere se è concluso, si può dire, con un hammer, hammer bullish. Volevo mostrarvi una cosa molto interessante, infatti a partire proprio da febbraio, anzi gennaio 2023, tutte quelle volte che abbiamo chiuso un downtrend, un ritracciamento di Bitcoin sul weekly, quindi è un time frame anche abbastanza alto, con un bullish hammer candle, che è appunto un candlestick pattern. Possiamo vedere che la settimana dopo abbiamo performato molto molto bene. È successo così tra febbraio e marzo 2023, è successo così a giugno, e ragazzi si è concluso anche questo settimanale. Staremo a vedere se la storia si ripete per quanto riguarda Bitcoin, oppure no. Lo scenario è molto molto simile effettivamente, e sicuramente ci fa pensare che dopo un ritracciamento anche abbastanza interessante, come è successo anche nelle scorse volte, potrebbe riverificarsi anche la settimana prossima. Ovviamente staremo a vedere. Passiamo però con la visuale sul daily. Visuale sul daily che possiamo vedere, siamo rientrati letteralmente all'interno di questa zona, il che è molto molto positivo per quanto riguarda Bitcoin, perché la zona pericolosa che poteva far andare Bitcoin verso il basso, è appunto una chiusura al di sotto dei 39,4. Così non è stato, per fortuna siamo rientrati al di sopra di questa zona, al di sopra dei 41.500 dollari. Staremo a vedere se nei prossimi giorni, soprattutto durante l'FOMC, ci potrebbe dare una direzionalità ben precisa su questa tipologia di asset. Passando con Liquidation Heatmap, abbiamo preso negli scorsi giorni, proprio a partire da venerdì, tutte le zone di liquidazione che abbiamo visto. Infatti a partire dai 40.300 dollari fino addirittura anche ai 42.300 dollari, abbiamo tutte queste zone di liquidazione che sono state assolutamente prese. Attenzione però adesso perché si stanno formando sempre sul weekly delle zone tra i 39.500 fino ai 39.250 dollari circa. Passando su Ethereum, lo scenario è completamente diverso. Infatti abbiamo un weekly che su Bitcoin, tutto sommato, è positivo. Infatti se ritorniamo sul weekly possiamo vedere che abbiamo chiuso con questa candela, con questo hammer che ci dimostra quanto inizialmente i sellers erano in padronanza ma poi in realtà i bulls hanno preso le redini dell'andamento proprio di Bitcoin. In questo caso però la situazione è totalmente opposta per quanto riguarda Ethereum. Infatti possiamo vedere che dopo dei massimi relativi ovviamente negli ultimi due anni a 2.721 dollari nella settimana, nelle prime settimane di gennaio abbiamo poi riassorbito praticamente tutto rientrando all'interno di questo rettangolo di compressione. Rettangolo di compressione che la parete inferiore è stata utilizzata esattamente come punto di rimbalzo. Staremo a vedere, l'importante è non scendere al di sotto di questa zona perché potremmo vedere tra virgolette capitolare lo stesso Ethereum. Perfetto ragazzi, prima di continuare volevo parlarvi di un progetto progetto che comunque sia mi avete chiesto di andare ad approfondire in molti non ho voluto fare un video dedicato quindi ho deciso di andare a inserirle in un video analisi dato che non c'è moltissimo da dire però comunque sia siete in tanti che mi avete chiesto di conseguenza ho voluto portarvelo. Si parla di BRN Metaverse in pratica stiamo parlando di un ecosistema web 3 ovviamente basato su GameFi dove c'è la possibilità di andare ad guadagnare soltanto giocando. Personalmente ancora non l'ho testato andrò ad approfondirlo più nel dettaglio possiamo vedere che comunque sia un progetto e un play to earn basato sulla Binance Smart Chain che è tradabile su PancakeSwap e tutto l'ecosistema di BRN Metaverse gira intorno al token l'utility token BRN dove ha una total supply di 29 milioni con una maximum supply di 228 milioni. Pare che, ma non sono assolutamente notizie sicure che abbiano intenzione di andare a bruciare parecchia supply di riducendolo appunto del 90% o meglio, questo è quello che si vocifera in rete. Possiamo vedere che comunque sia le maggiori features di questo progetto sono che ovviamente è basato su Lab3 di conseguenza è un ecosistema dove si interfaccia con la tecnologia blockchain e NFT infatti possiamo vedere che è un game NFT dove c'è la possibilità di andare a comprare e rivendere attraverso un marketplace i vari NFT che si sviluppano all'interno del gioco. Qui di sotto possiamo trovare i partner dove possiamo trovare gate.io, xt.com, bitmartmax insomma stiamo parlando di 4 token abbastanza importanti loro non li hanno inseriti tra i partner però è anche vero che qui come possiamo vedere c'è il loro token listato su questi ultimi exchange e di conseguenza non è una tipologia di partnership almeno per quel che sembra dove vanno questi ultimi enti ad investire in questa tipologia di progetto. Possiamo vedere anche tutto il resto delle entità che hanno avuto a che fare con BRN e Metaverse. Se clicchiamo su games possiamo vedere tutti i vari personaggi che sono presenti all'interno di questo progetto abbiamo per esempio Angel, Axer, Barbarossa, Elf eccetera eccetera andando su stake può essere messo in staking il token ovviamente per farlo dobbiamo connettere il wallet al sito dove abbiamo la possibilità di inserire Ethereum o Binance Smart Chain comunque ragazzi non invito assolutamente nessuno ad investire in questa tipologia di progetto me l'avete richiesto e di conseguenza ho voluto darvi una rapida overview. Perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare a iscriversi a BitGet, Bybit, eccetera eccetera se non l'avessi ancora fatto vi chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo al prossimo video ciao iscriviti al canale